Sto qua perché adesso la tristina mi fa soffrigo, cambia capelli. E già, si manifesta anche così fra i bagnanti nostrani la delusione per una squadra di calcio decisamente sottotono. Come sottotono è la giornata odierna dal punto di vista balneare. Infatti Trieste centro batte Barcola. Nonostante il bel sole, il nostro litorale non è stato preso d'assalto dagli amanti della tintarella, ma viceversa a farla da padrone oggi è stato il mercato di Piazza Europa, affollato da coloro che non hanno approfittato della festività infrasettimanale per il ponte che magari poteva ricomprendere anche il primo maggio, ma hanno scelto di restare in città e trascorrere il 25 aprile fra le bancarelle e i tanti negozi che hanno tenuto aperto. Faccio un giro per città. E' più che sufficiente, c'è tanta bella gente, gioventù, belle baracche, si si diverte. Anche la città oggi è splendida. Solo in città, solo in città. Poi faremo un gitto nei musei. Per il momento in centro, a guardare i negozietti, le bancarelle, a godersi anche la gente che passeggia. Abbiamo fatto un giro al castello di San Giusto perché anche la cultura deve avere il suo spazio e adesso ci dilettiamo a mangiare. E qui in città, alle bancarelle? Oggi niente, qui a vedere un po' queste belle baracchette qua, per non vedere se ci sono novità, se ci sono cose diverse dal solito. Sì, a fare un giro e a mangiare. Stamattina qua, stasera in Carso. Bellissima giornata, bellissimo il mercato, ci vorrebbe sempre. No, niente ponte, niente. I mercatini, poi a casa, a studiare, con figli. Facciamo anche il ponte, restiamo in città. Solo in città, oggi bisogna festeggiare qua a Trieste. Niente ponte, in città, in città. Fra mezzo a queste bancarelle bellissime. E tra coloro che hanno scelto i relax in riva al mare, nessun dubbio. La riviera barcolana rimane il top. Bella giornata, prendiamo i suoi, tutto il giorno. Barcola, barcola, ormai è nel nostro cuore. Tutto il giorno qua, direi. Tutto il giorno qua, oggi è una bella giornata. Ci divertiremo qua, c'è persone. Oggi siamo qua insieme a tutti gli amici e i parenti. Dopo questi giorni andremo fuori. Ponte quest'anno non riusciamo a fare. Però è una bella giornata, qua si sta decisamente bene.